Uno dei sistemi tecnologici per fare in modo che il pavimento sia utilizzabile o smontabile facilmente è quello di pavimenti chiamati galleggianti o più correttamente sopraelevati ed è quello che vediamo in questo caso. Si tratta di pannelli che vengono appoggiati con dei piedini regolabili creando in questo modo un intercapedine tra il solaio strutturale e il pavimento finito e attraverso questo spazio far passare tutti gli impianti, cavi, tubature e così via. In più in questo caso vediamo anche un parquet particolare, un parquet magnetico che va ad incollarsi magneticamente ai pannelli metallici del pavimento e quindi all'occorrenza si può facilmente togliere, andare a fare manutenzione, sostituire i pezzi che serve sotto negli impianti e rimettere a posto molto velocemente tutto senza nessuna difficoltà e senza disagi anche in un edificio abitato.